quindi a 15 anni il tuo primo 16 anni mi ricordo bene ma era 15 e io ho conosciuto nello stile perché lui giocava delle grosse cifre giocava soldoni veri quindi io non sapendo nulla dei cavalli era un po ignorante dicevo se questo qua ha giocato un milione allora io gioco 200.000 e sicuramente il cavallo arriva invece era sempre il contrario da 30 cos'è 32 31 32 anni e quanto giocavi iniziali è tanto tipo tipo grande ha provato a giocare 20 milioni a corsa 20 milioni di dire che sono oggi sarebbero per me anche sarebbero anche attività no vabbè il rapporto anni 90 la valuta sono 30 mila euro circa i primi soldi per giocare dove li prendevate niente io dalla mia famiglia e lui della famiglia no vabbè io mi arrangiavo arrangiarsi l'arte mi arrangiavo l'arte di arrangiarsi cioè facevo soldi inventavo qualsiasi cosa per fare soldi e poi dopo ho fatto l'impresa però io già da ragazzo da giovane già giocavo non cifre grosse perché le cifre grosse incominciato quando avevo l'impresa perché non giocavo solo i cavalli giocavo anche casinò bische bische clandestino ai dadi si giocava cioè normale è come dire che adesso vado vado al casinò posso giocare a play jack anche il migliore a colpo no nel mille cinque duemila